Tra le altre cose, le altre carezze, tra le varie carezze che ha indirizzato a Kamala Harris, ha detto dobbiamo fermare l'onda di Kamala, la persona più estremista di sinistra che si sia mai candidata, talmente estremista che nessuno può immaginarlo, evidentemente tranne lui, con i suoi ridicoli sorrisi. E poi ha detto c'è stato un 43% di aumenti di crimini con Joe Biden, insomma sta distribuendo... Faccio notare che Trump inizia sempre a parlare quando siamo in onda noi. Lo fa apposta, è come Diego Bianchi che arriva qui per scurtare noi. A Scipione Rossi se fa parte della destra trampiana lui personalmente? Io personalmente no, poi guardate... Non le piace, tra l'altro ti piace? No, ma non è che non mi piace, no non mi piace, ma poi dice cose... Ma se fossi americano non saprei chi votare, dico la verità. La destra però non è uguale in Italia e in America, le destre sono tante. La destra trampiana è impegnativa da sostenere, diciamo. Ma come diceva Prezzolini, possa essere 3, 33, 303. E su questa citazione che piacerebbe al ministro San Giuliano, ringraziamo Rosi Bindi per essere stata con noi, Antonio Di Bella e Daniele Compatangelo, che non lo do per scontato. Antonio Di Bella e Daniele Compatangelo.